buongiorno a tutti questo è un video improvvisato lo sto facendo adesso perché mi si è rotta la scopa della follette la vk 150 vabbè questo come metodo di riparazione lo stisang della vk 140 questo video vi garantisco che è unico perché girando su internet su youtube non sono riuscito a trovare una soluzione per risolvere questo problema con il mio selettore tutti fanno vedere come si smonta la scopa per intervenire sul motore ma non come si fa a sostituire il selettore e vi dico non è stato assolutamente semplice questa adesso è la scopa così com'è del tutto smontata adesso vi faccio vedere da come la vado a montare in pratico come si andava anche a smontare il pezzo sono da sostituire e questo qua vi dico che è stato da mente complicato nel smontarlo che il negoziante non ha venduto il componente si è meravigliato e fatto che sono riuscito a smontarlo allora procediamo quindi vado di nuovo a staccare sto componente perché per passarlo bisogna girarlo da dietro ok dobbiamo passare questo cavo qui quindi da dietro allora innanzitutto vi spiego che per smontare questo porta delle alette qua nella sinistra che a destra quindi non è necessario toglielo tutto ma ci deve soltanto aprirlo come ho fatto adesso io per accedere al vano allora per rimetterlo a posto su se vedete qui c'è qui dentro c'è un foro questo è il cavetto dobbiamo farlo passare per il fuori attenzione che c'è anche un gommino che serve per l'aspirazione non rovinatelo perché dopo sono uguale per aiutarvi l'inserimento di usare anche un calciavite abbiamo io quando l'ha tolta è stata più brava ecco qua e l'abbiamo questo qua va collegato con questo a posto poi va rimesso qui dentro no mi sa che era il giusto questo questo va qua non andava dall'altro lato saliva su ok per smontarlo basta premere qui ok così sembra più corto secondo me andava ok no più di attaccare il cavo dobbiamo attaccare questo qui quindi non so si vede si vede quindi questo qua va inserito forse in quattro fa un po fatica ecco qui dopo inseriamo ecco qui ecco ci arriviamo quindi devo andare così è perfetto quindi ecco qua a posto mettiamo qui nella sua sede questo scende giù questo facciamo piano e facciamo scendere uno per volta questo invece questo invece se ci ha lanciato il tubo quindi l'indicatore il pieno scopa ecco fatto e l'abbiamo rimesso qua corsi adesso giriamo allora come ho detto ci sono questi qua quindi dobbiamo fare in questo modo innanzitutto assicuratevi di aver messo bene e l'orgimento il pezzo effetti abbiamo messo male allora mettete il selettore sul 0 qui deve stare sul 0 ok togliamo di nuovo questo ecco qui e poi rifate di una prova quindi girando la scopa vedete ecco qua si scende da posto ok quindi poi poi facciamo pressione in modo che questo qui rientra nella sede non è facile eh ve l'ho detto non è stato assolutamente facile neanche per ecco fatto ok ma non c'è che fare entrare questi io ho utilizzato un calcio a vitro per fare la leva adesso a sinistra e quindi ecco qui ecco qui e e fare la stessa cosa anche qui qua ecco qui ecco qui ecco qui ecco qui allora per per inserire meglio dopo che l'avete effettuato più della metà del inserimento aiutato con il martello di gomma io ho usato questo qui abbiamo restato abbastanza dura ma che comunque non graffia effetti ho provato con il calcio vide in questo punto a fare entrare ma l'ho rovinato un pochettino qui adesso va da riparare con un piccolo mouse in plastica che mi sono realizzato allora questo qua me ne sono costruito io e ci serve in questo caso lo utilizzerò per aggiustare le punte che sono rimaste se usate questo sicuramente questo problema non ce l'avete qua ho usato una carta molto sottile non usate una troppo grande come grana perché poi dopo graffiare troppo la scuola ecco qui nelle gomme italia comunque registrando la donna che sentite nei video è quella che non credeva che riusciva a fare il suo servizio donna tipo cafe ok purtroppo ok adesso passiamo al montaggio questa è la parte più semplice a questo punto con l'uso di questo tipo di punta dobbiamo soltanto abitare su questo abitare le viti o smontato se vedete su questo qui ho fatto un taglio si vede ecco qua ho fatto un taglio che questo qui non andava fino in fondo usato un dimmer potete usare anche un segreto se ce l'avete e con l'uso del cacciavite non male a taglio potete andare fino in fondo e vai e non vedi e voilà altri soldi risparmiati grazie a tutti